Sono 19.820 nuovi casi di Covid, 36 morti nelle ultime 24 ore in Veneto, come di consueto i numeri arrivano dal bollettino regionale che al 26 gennaio, ore 8, segna un totale di 259.558 positive in isolamento. La situazione è negli ospedali altalenante, negli ultimi giorni si registra un nuovo aumento di ricoverati, il 25 gennaio ci sono stati 125 nuovi ricoveri. Al momento negli ospedali ci sono in area medica 1854 persone in terapia intensiva 180, la provincia di Vicenza risulta essere quella più colpita sia per numero di contagi e per numero di ricoverati. L'ospedale con più pazienti ad oggi è il San Bortolo di Vicenza, 109 persone in area non critica, 14 in terapia intensiva. Dal 19 gennaio ad oggi nel territorio Ulsotto, Berica e Settepe di Montana, 31 morti in 7 giorni. In tutta la regione il numero di vaccini inoculati nelle ultime 24 ore 34.251.